Ok la situazione è grave Sono le 7.42 del mattino Io sono circa 21 ore che non dormo Sono appena tornato a casa da una serata Fantastica Sono andato a Fiumicino a sentire il concerto Del mio insegnante di chitarra E voi direte dov'è il problema Il problema è che Fiumicino sta a circa 40 km da casa mia Il concerto è finito tardi E io con i miei amici e il mio insegnante di chitarra Abbiamo detto vabbè perché non andarci a fare il bani in piscina A casa di un mio amico Si erano fatte le 5 più o meno Quando sono andato io Da casa del mio amico E io precisamente tra 4 ore Ho le prove per Suonare le canzoni Al 25esimo anniversario del genitore della mia ragazza Quindi ho pensato di rimanere sveglio Ma forse non è stata una grande cosa Dato che mi sono addormentato Mentre registravo Ok rega Mi ero intrippato un attimo Oggi avrei dovuto portare Un nuovo gameplay Su Rocket League Ma non ce la faccio So stanco Ho sonno E già tanto se vi porto questo Poi c'è la lucetta della GoPro Che lampeggia e mi sta intrippando Una cifra Rega ci sentimo alla prossima Bella